Con la prima domenica di marzo il campionato entra ufficialmente nella sua fase più calda. Le tre abruzzesi pensano in grande, l'Aquila vuole il secondo posto, Chieti e Teramo, i play-off. L'Aquila tornerà a misurarsi con il fattori, campo non sempre amico, 26 punti conquistati lontano da casa, 18 fra le proprie mura per l'11 di Maurizio Ianni. A rendere ancora più difficile la domenica sarà l'arrivo di un campo basso in grande ripresa, giunto a due punti della zona salvezza, anche se i lupi stanno basando tutto sul rendimento interno e sono andati al tappeto nelle ultime tre trasferte. Tra i rosso-blu assenti per squalifica Mucciante e Menicozzo saranno rimpiazzati da Ingrosso, che comunque deve smattire una forma influenzale, e Agnello. Torna anche Ciotola, anche se domenica scorsa è d'amico, è andato a segno. Ballottaggio Gizzi-Ligorio a sinistra. Nessuna novità per il tecnico molisano Vullo, grosse attenzioni alla venenosa coppia di vicino Maiella. Scontro diretto e posto in paglio molto alta, pieno d'accio, si incrociano Teramo e Aprilia, appaiata quota 36, momenti diversi. Il Teramo sta disputando un 2013 molto buono, a dispetto del solo punto nelle ultime tre trasferte. L'Apriglia è in crisi da molto tempo, tanto da aver dovuto cambiare guida tecnica, Favaretto per Vivarini, e domenica scorsa per poco non ha perso a domicilio con l'ultima della classe. Ma la partita di domani resetta tutto. Se non vogliono perdere anche il treno playoff, i Pontini, che recuperano Sembroni in difesa, ma saranno orfani di corsi, non possono steccare. Il Teramo, d'altro canto, vuole vendicare lo 0-3 dell'andata e non vuole fermarsi sul più bello. Fuori causa Novinic ha piedato, De Stefano e Righini. Coletti si riprende il ruolo di play, affiancato da Foglie e Valentini. Petrella pronto al rientro tra i titolari. Si è rilanciato il Chieti con il fondamentale successo in chiave playoff col Poggi Bonzi, che ha permesso l'aggancio a Teramo e Aprilia. Ora i Tietini vogliono tornare a rugire anche lontano dall'Angelini, dove il successo manca dall'11 novembre, 0-1 a Reggio Calabria. Per farlo il Chieti potrebbe sfruttare le difficoltà casalinghe di un gavorrano impacciato al mal servisi Matteini e scivolato al ridosso della zona play-out. De Patria ha di nuovo a disposizione Verna e Gigli. Al primo lascerà spazio Rinaldi, il secondo rileverà Di Filippo. Il tecnico di casa Buso sarà senza mazzanti e spera di recuperare in extremis il capitano Miano. Anche per il Chieti opportunità di riscatto dopo il tonfo interno dell'andata. Gli arbitri, l'Aquila Campobasso ad Albertini di Ascoli Piceno, Teramo Aprilia ha ceccato di Bastano del Grappa e Gavorano Chieti a Oliveri di Palermo.